DRAKE Sei il guerriero più forte tra queste mura, Drake. Mi hai servito bene. Ti ho allevato come un figlio e insieme abbiamo conquistato queste terre. È stato fin troppo facile. Come saprei se non prossimo essere padroni di queste terre? I riveli non rappresentano una minaccia, ma possono essere causa di disordini che trovo alquanto insopportabili. Mi è giunta voce che un pugno di ribelli si sia rifugiato nei boschi a ovest da qui. E come saprai, quei boschi sono lontani. Il mio padrone cerca di portare ordine. C'era già l'ordine, prima che il tuo padrone uccidessi lei e la regina. Questi ribelli potrebbero essere la causa di nuovi attacchi. Devono essere sterminati. Mi aspetto che tu vi è l'unico. Quello crigioniere è molto pericoloso. Promettimi di stare lontano da quel crigioniere. Hai combattuto al muro, hai distrutto l'iperiturale. E ora ritorni qui con l'arroganza per riprenderti il mio trono. Hai zitiato paura? Che avevo detto di non avvicinarti a preso il dato? Drake non è ancora tornato. Credo sia il caso di intervenire. Non vuoi proprio deciderti a morire. Drake sta tornando a casa. Accogliamo il nostro soldato. GUN! È tornato a casa, Drake. Mio signore, è sicuro di questo? Drake è un pezzo del vecchio impegno. È finita. Quando un incendio brucia una foresta non lascia superstiti. Terminate la tour. Grazie! No! 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 Grazie.